Alla fine del 1983 esce Il mare d'inverno, cantata da Loredana Bertè, successo enorme e quindi il mio posizionamento è ulteriormente migliorato, al punto che la CGD mi propone di andare a Sanremo nei giovani. Io do una risposta della quale avrei anche potuto pentirmi, cioè dico o tra i big o niente, loro dicono non ti prenderanno mai, mi propongono e invece evidentemente la canzone piace, la canzone era Nuovo Swing, quindi c'è l'esigenza immediata di uscire con un album e qui devo dire, io ho avuto un'idea notevole perché esco con questo album a doppia copertina che si chiama Presente, due facciate, in una facciata c'è Nuovo Swing, il brano di Sanremo, c'è la mia personale versione del mare d'inverno, ma ci sono anche delle altre cose perché nella seconda facciata io decido di registrare un live di cinque pezzi dentro allo studio, in CGD c'era uno studio grandissimo, faccio venire un centinaio di fan, chissà dove sono, li saluto e li abbraccio e registro un album dal vivo in studio, quindi un'esperienza unica, non credo che sia mai più accaduto. Quindi l'album va in classifica, Nuovo Swing si segnala, a Sanremo arriva penultima, però diventa una canzone che insomma andrà bene. Nel frattempo c'è questo live, nella band è entrato Marcello Catalano alla batteria ed è entrata Stefania Schiavone al pianoforte e grazie a tutto questo il 1984 sarà il primo mio vero anno diciamo da cantante, con un grande tour arriveranno due musicisti, Luigi Fiora alla batteria e Alberto Rocchetti che adesso suona da decenni con Vasco Rossi ma che ho inventato io, che ha debuttato con me e quindi insomma l'avventura prende quota, un grande tour, un sacco di concerti, una canzone che si chiamava Nuovo Swing, il mare d'inverno a far da supporto e tutto che inizia ad andare per il verso giusto.